Martedì di doppio lavoro per il Cesena di Castori, occupato a preparare la sfida casalinga di sabato contro il Cittadella. Senza Dalmonte e Moncini, che si sono sfidati da avversari inamichevole con le rispettive selezioni, terminata 2-2 con la doppietta del Toscano, sono stati inseriti Primavera, Ceccacci e Babbi. Al centro sportivo Rognoni il cielo è coperto e le temperature sono rigide per i pochi temerari curiosi rifugiati sotto la tribunetta del campo centrale. Al mattino la squadra ha svolto lavoro atletico tra campo e palestra, mentre al pomeriggio la seduta si è aperta al chiuso per curare la parte fisica. In campo Castori ha prima diviso il gruppo in due tronconi per una breve fase di possesso e pressing, poi 25 minuti sono stati dedicati al lavoro tra reparti. Ad una porta sola quattro difensori dovevano tenere la linea del fuorigioco dagli assati e degli attaccanti a caccia di gol. Poi a rotazione sono stati aggiunti prima mediani ed infine esterni a completare le due linee. A chiudere il pomeriggio dopo un'ora e trenta la partita alla ranghi misti a campo ridotto. A trionfare sono state le pettorine verdi col punteggio di 3-2 grazie alle reti di Cupisch, Laribi e Cascione, mentre per i neri sono andati a segno autorete Swagger e Vita. Grazie. 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 Grazie.